I giardini di Augusto distano pochi minuti a piedi dalla piazzetta di Capri. The gardens of Augustus are just a few minutes on foot from the piazzetta of Capri. Per arrivare ai giardini di Augusto devi andare in via Vittorio Emanuele, poi in via Federico Serena ed infine in via Matteotti. L'accesso ai giardini di Augusto è a pagamento e i biglietti d'ingresso sono acquistabili online. Access to the gardens of Augustus is subject to a fee and you can buy the entrance tickets online. Il sito dove acquistare i biglietti è capricultureturismo.it. Il sito dove acquistare i biglietti è capricultureturismo.it. I giardini di Augusto è un giardino pubblico donato alla comunità di Capri agli inizi del XX secolo dall'industriale tedesco Frederick Alfred Krupp insieme alla sottostante stradina attornanti che porta il suo nome. The gardens of Augustus are public gardens that were donated to the town of Capri at the beginning of the 20th century by the German manufacturing tycoon Frederick Alfred Krupp, together with the winding road below bearing his name. Ma perché venire ai giardini di Augusto? Why come to the gardens of Augustus? Perché da qui puoi vedere due cose veramente caratteristiche di Capri, i magnifici faraglioni? Perché da qui puoi vedere due cose veramente caratteristiche di Capri. e la famosa Via Krupp e la famosa Via Krupp. Vuoi sapere qualcosa in più della storia di questa stradina così particolare? Do you want to know more about the history of this particular street? Nei sottotitoli trovi la storia di Via Krupp, in the subtitle The History of Via Krupp. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.